Ops a tutti, miei cari upsini e upsine, come state? Spero tutto, tutto bene. Oggi sono qui solo per voi, per fare un video che non ho visto fare tanto su YouTube, ma che secondo me è una cosa super, super rilassante. Perché quando eravamo, parra, siamo a scuola, l'abbiamo fatta tutti. Io sono sicuro che tutti, almeno una volta, avranno preso una matita, una penna. E l'abbiano un pochino morsicchiata. Quindi appunto questo sarà un video intero dove morderò questa penna che ho qua, ok? Quindi, mi raccomando, indossate un paio di cuffie o auricolari, stendetevi sul vostro letto e cercate di chiudere gli occhi, va bene? Quindi io prendo il mio tratto penna e comincio. Ah, è un pochino, un pochino, un pochino, un pochino, un pochino. Ah, è un pochino, un pochino. Ah, è un pochino, un pochino. E' una cosa stranissima farlo qui davanti a voi, però trovo che faccia tanti, tanti, tanti payment sounds. Io rendo l'abbò, bellissimo. no non c'è più no no oh un po' perciò l'effetto Per fare questo video ho voluto usare il Tascam perché trovo che faccia risultare molto di più il pineorale E anche i piccoli 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 mouth sounds e ho trovato questo modo di metterlo che se mi muovo troppo cade tutto quindi devo cercare di stare attento a non muovermi troppo Per fare questo video è un capo di riempio no 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 grazie no grazie no 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 un po' di più no, 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 no no ok 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 Scrivetemi se questo video vi è piaciuto Se ne vorreste poi una parte due Un altro insomma Magari con un altro oggetto Tipo una matita O un pennarello Non lo so Ditemi voi Ok no 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 un po' di più un po' di più no ciao quindi mi sembra sia giunto il momento di darvi la buonanotte adesso cuckoo cuckoo adesso tocca a voi iscrivetevi al canale se siete nuovi per entrare a far parte della Ups community e se siete dei maschietti diventare i miei Upsini mentre se siete delle femminucce diventare le mie Upsine poi lasciate un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e commentate qua sotto tutto 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 quello che vi passa per la testa va bene? il video di oggi purtroppo finisce qua ma se tu vuoi ancora restare insieme a me io ti lascio di qua il mio video precedente di qua una mia playlist e qua da qualche parte il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video voi vogliate va bene? quindi dai posiamo la penna ragazzi buonanotte buonanotte un bacio e noi ci vediamo al prossimo video va bene? ciao 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 ciao